A cosa stai pensando? Niente. Non so, stavo pensando alla riunione di condominio. Non vedo l'ora di andarci. Ma per la storia delle bici in cortile? No, in generale. Ci sono delle cose che vorrei... Non vedo l'ora di fare i compiti con Ale, la sera. Sai quando gli spieghi le cose cinquanta volte e lui ti risponde a caso? Ecco. Ho persino voglia di andare al colloquio con i prof. Anche inglese? Sì, anche quella d'inglese. Non vedo l'ora di avere una riunione di lunedì, di portare giù il cane, magari quando piove. Magari di stare lì a stirare, di stirare delle camicie, di stare in coda, in macchina, di girare un'ora per cercare un posto e poi magari multa. Non vedo l'ora di cenare da tua madre. Non vedo l'ora. Dimmi una cosa. Che,aca veda... Rest're 중, che si juro che non ci sono po agita. Non vedo. Ci sono cose che sono l'ora di caminho da questa nostra ricerca. Molta mo' raconazione in casa ad diventa della riposta. Co